Senatrice Fedeli, ancora i ruoli apicali, nella maggioranza sono ruoli maschili. Perché? Perché continua ad esserci una oggettiva discriminazione verso le donne. La società è fatta dal 50% di donne e di uomini. Abbiamo fatto una legge per essere eletti nel Parlamento, nei consigli regionali, nel Parlamento europeo c'è una norma antidiscriminatoria per portare esattamente maggiori donne dentro ai luoghi della decisione politica e del potere politico. Ma le prime responsabilità ancora oggi sono prevalentemente di cooptazione e non invece di un equilibrio che anche lì dovrebbe esserci, di scelta di donne e di uomini. Io penso che su questo dobbiamo assolutamente combattere e credo anche che dobbiamo dotarci di una norma parlamentare.